Nel 1984 Antonella Bua, giovane bambina sarda, oggi donna di 43 anni, fu sottoposta a Pesaro a un trapianto di midollo osseo assieme a David Salis. Un gesto che di fatto le salvò la vita e a 37 anni di distanza Antonella, rimasta sempre legata a Pesaro, è tornata oggi in città per restituire in maniera simbolica la generosità di allora. Lo ha fatto con un piccolo grande gesto di donazione di materiale scolastico ai bambini fra i 6 e gli 8 anni della scuola Pirandello, stessa età che aveva Antonella quando l'esperienza di Pesaro le cambiò la vita. Io insieme a David, un altro ragazzo trapiantato di midollo qui a Pesaro, abbiamo voluto fare un gesto d'amore verso i bambini della scuola elementare Pirandello, memori del gesto che c'era stato donato tanti anni fa a Pesaro e quindi abbiamo voluto simbolicamente donargli un qualcosa, sì un qualcosa di materiale ma è un qualcosa che ha un altro significato, il significato del donarsi agli altri e oggi io sono felice di essere in mezzo ai bambini e ai loro insegnanti e a tutto l'istituto perché siamo stati bambini anche noi, io avevo sei anni quando ho fatto il trapianto e David ne aveva otto e quindi abbiamo ricevuto davvero un grande dono, abbiamo ricevuto un nuovo midollo osseo. Sono bambini, è bellissimo vederli, vedere la gioia nei loro occhi in questo particolare momento che non è certo dei migliori ma arriverà comunque in momenti migliori anche perché sono piccoli e cresceranno e sicuramente dimenticheranno quest'era Covid perché questa è un'era Covid. La testimonianza di Antonella Bua di questa mattina è proprio questo simbolicamente, ha voluto donare ai bambini una parte simbolicamente di quel dono che lei ha ricevuto alla loro età, quindi è chiaro, magari è un colore, è una matita, è un quaderno ma si spera tanto che quel quaderno diventi il quaderno su cui scrivere le belle cose della loro vita. È una bella giornata per noi, abbiamo scelto anche questo istituto per dare il benvenuto alla dirigente scolastica, arrivata da poco meno di un mese quindi ci sembrava anche un bel gesto per far capire quando la nostra città sia una città accogliente, inclusiva e piena di ricordi. E questo è per me molto un evento importante perché è l'occasione per offrire ai nostri bambini, ai nostri ragazzi uno spunto per riflettere sull'importanza del dono, sull'importanza del valore della vita ma soprattutto anche sull'importanza della solidarietà perché c'è bisogno di donazioni e nella scuola sicuramente si può fare tanto per sviluppare la sensibilità di questi ragazzi che saranno poi la società del futuro.